Apertura del sindaco Gaspari che sul tema della mega variante spera di incontrare presto i promotori del referendum contro questa manovra urbanistica voluta dall'amministrazione di centro-sinistra. Un segno di distensione verso l'ex alleato Giorgio Mancini che è al timone del gruppo che sta raccogliendo le firme. Ma perché c'era stata tensione fra Gaspari e il comitato contro la cementificazione? Tutto sarebbe rinchiuso nel quesito referendario. Che da parte mia non c'era nessuna volontà di ostacolare questa libera forma di contestazione. Ho semplicemente chiesto che siccome il quesito deve essere stampato da parte del comune di San Betto del Tronto, approvato dal Consiglio Comunale, il quesito che era stato posto, che era stato presentato a me, era un quesito che dava già delle risposte. Ho chiesto che fosse posto il quesito, vuoi tu, il quesito classico che si pone durante un referendum, vuoi tu abrogare, no, e si cita l'articolo, la legge, si cita il corpo di delibera in questo caso. Ma cosa si diceva in questo contestato quesito? Ecco la domanda. Volete voi che l'amministrazione comunale dia attuazione alla delibera consigliare numero 113 del 2009, in base alla quale concede a privati notevoli aumenti di cubatura e la possibilità di realizzare consistenti interventi edilizie su aree attualmente non edificabili. Seguono solo dettagli tecnici sulle zone interessate dall'intervento, ma il motivo del contendere sarebbe rappresentato da queste due frasi. Sono disposti ad un incontro e quindi io sto aspettando di poterli incontrare perché è mia volontà voler arrivare ad un'idea di sviluppo della città la più condivisa possibile.